Ma porca Eva Ok, facciamo così Ci riprovo Da capo Ma porca miseriaccia Ma stai connessioni L'ho battuto e mi crasha tutto Figa di che l'ho battuto E non l'avevo messo a registrare da live Quindi si rifà Evviva Vabbè adesso ci dovrei mettere di meno Perché ho capito Ho ripreso bene il suo moveset Che gli stessi in pista e quelle cose Sì o meno Che filmato stai guardando Che cosa stai guardando No marito cosa stai vedendo Che filmato stai vedendo No no che filmato stai vedendo io nel gioco Oh no! Oh no! Si! Oh no! Oh no! Sì, sì, un po' di tempo Tranquilo Vorrei poter modificare le impostazioni della live subito Per mettere un titolo più interessante Faccio proprio capire il mio rancore verso questa cosa Dai ma proprio sul finale dovevo Che balla Vabbè se non ci riesco io lo considero comunque battuto Tanto ho fatto anche video dove lo batteo Ho battuto 5 volte già Anzi sei questa contando questa No non è bello 5 E l'altro ho battuto pure senza diamond d'altro Quindi ho bene mp Semplicemente imprecando Allora 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 Con chi stava parlando Axel? Sì 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 ho capito chi è Sì lo so chi è Mi ha detto tipo Noi nessuno non possiamo sperare di diventare qualcuno Qualcuno del genere Il dialogo è molto importante Eh vedrai vedrai Non dico niente ma vedrai Axel veramente ci sta a mare Poverto zio Povero Sora Vabbè la cosa positiva È che almeno questo è il più rompipalle Teoricamente me lo sono già tolto Vabbè la cosa guerra. Dunque quello di Sephiroth dovrebbe essere un trofeo di oro, d'oro, non d'argento, di bronzo. Mi insulta il personaggio e a noi come videogiocatori. Il trofeo di Sephiroth dovrebbe essere d'oro e non di bronzo. Mi insultano i giocatori. E mi sa che di bronzo ho troppo di Sephiroth. Vaffanculo. Dovrei farti già battuto e ti ho già battuto ma la mia testa ardagge mi impone di farlo in live. Inizio. Oddio. Sciccola. 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 Oh Non posso sì, perché... Ah vabbè, domenica varie giusto, se ci sei, ci sono perché, tanto che l'olcino ce l'ho di mattino. Eeeh... Sì. Sì, 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 ho capito. Dio santo. No, mica, scusa, ti sento basso. Più o meno, più o meno lo stesso. Dai, prova. Prova, vai. Vai, 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 dimmi, dimmi. Sì, hai sentito che non ho dato l'attrice. Ah, sì, ho sentito. No, ho capito. Eeeh... Che cosa? No, hai sentito. Sì, ho sentito. Più oltre la cosa che mi intriga di più al momento è Spiderman. Porco. Vaffanculo, minuto mi salta a stò ora. Sì. Sarebbe bellissimo, sarebbe anche ora che iniziassero a parlare del multiverso. Out. Sì. Sì. Sai cosa mi preoccupa? Il fatto che potrebbe esserci troppa roba se ne mettono troppi nemici, cosa così. Fanno l'errore di Spiderman 2, di Spiderman 3 e di Spiderman 2. Allora io mi fido del regista però un po' ho paura di questo. perché io adoro quindi Spiderman della MCU. Ma l'errore di Spiderman 3 sarà il quale fantastico 4. quindi ripongo grande fiducia in lui. io credo che faranno un Dio Santo. Faranno un ricaster secondo me. Magari torneranno però altri walls lo so. Magari torneranno però anche per l'errore di Spiderman 3. Pagliari torneranno per l'errore di Spiderman 3. Ma io sono ancora fatto due. Oh adesso come ne fate due. Amicchè sia aggressivo! Un 30 taglio 2 Oh non ci vuole entrare Perché non ci entra? Non ci vuole entrare No si scusa solo che sono concentrati in su Non ci vuole entrare 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 Mi lascio incontrare in pace Grazie Non ci vuole entrare 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 Grazie a tutti. Dai, quanto mi manca ancora? No! Merda! Merda! Robbio, ci sei? Ho perso la fine! Madonna, stavo andando bene, avevo due items. E' troppo agressivo, mamma mia! Come on! No! 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 Non troppo tardi! No! 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 Merda Avevo potuto morire male Avevo potuto morire 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 Oh Manca? Sì, perché hanno questi diritti Sì, il copyright è una brutta bestia Il copyright è una brutta bestia No, il creatore mi sa che non ha dato i diritti No, 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 quello di Talzon Sì, perché chi ha lavorato i film Dà delle direttive sui mondi No Non c'è un gi spannò Non c'è un giusto Non c'è un giusto No minimo I rifiuti Non c'è un giusto dai come scusa poi non l'ho capita sta cosa in realtà ecco un altro film che dice che mi devo recuperare che non ho mai visto non sei ronchi i palle se hai tirato non 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 Strutto figlioti... Oh my gosh... Allora... Si sta prendendo un'unica digestione sta boss fight. Mi sta ritornando tutta la cena. Sono benedetto i indici di questi frames di Strike Guide. Ouh. 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 Ah mamma mia con te Questa è aggressiva e stai pile di fiamme sono un incubo Ah mamma mia con te 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 Ah mamma con te Ah mamma con te Ah mamma mia 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 con te Ah mamma con te Ah mamma mia 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 con te